Musica Tutti ragazzi sono Andre9, benvenuti in questo nuovissimo video Allora, se vedete una qualità audio migliore, o un po' meglio E perchè ho un paio di cuffie nuove che mi hanno regalato i miei amici per il mio compleanno Che era ieri per questo, e da un po' che non faccio video Cioè ho cambiato discorso, non è per questo, e da un po' che non faccio video, scherzo E da un po' che non faccio video, cioè i video ce li ho pre-registrati Però non riesco a dupparli perchè semplicemente mi fa schifo la connessione a internet E devo risparmiare le due ore, cioè devo sprecare le due ore, poi non li spreco io Perchè faccio qualcosa per voi e a me mi diverte, se vi piace soprattutto Cioè diciamo, devo sprecare quelle due ore di gioco che ho a disposizione Perchè se non lo sapete io suono la chitarra Vabbè comunque, comunque, comunque Cioè non è che suono la chitarra, vado a scuola di chitarra, quindi la so suonare Però non è che la suono a livello professionale, tipo in una band Io so che cazzezzo qua in giro nel mondo, ma non so sinceramente che cosa fare Intanto, tipo vogliamo, tipo così Che cosa bella, se sentite una qualità audio migliore comunque fatemelo sapere Lo spero, lo spero molto che la sentirete Lo spero proprio a sperare Il brutto di questa pozione è che si deve sfammare per volare Ma poi dai, non facciamo chassate Cioè andiamo da qualche parte, tipo Che cos'è? Spawn Twitch Oh wow Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Beh comunque questo ci servirà parecchio Questo piccolo spawner Comunque sì, volevo fare una mob farm Ma non so come farla per automatizzarla Perché il grinder qua credo che non ci sia No, non c'è In effetti me lo potevo immaginare Non molto tecnico Cioè per niente Unica cosa da fare sarebbe così Sì, è vero con la open block Ciao Va bene Con la open block Sì, bene In effetti dovrei cacciare le cose della witchery Perché dato che non la uso La cacceremo Comunque Dovrei Sì, possiamo fare lo spawner Andiamo a casa Madonna Che casino che c'ho qua dentro Ok Ora va un po' meglio Quindi andiamo a casa Cerchiamo di fare le cose con la open block Che si chiamano Spike Non è il mio amico Ma sono le spike Proprio Intese come spine Perché in effetti sono spine A culei Come le potete chiamare voi Spike Eccole qua Posso fare sia quelle della cosa Dell'automatic Della torch levers Sia queste Però Oh mio dio Meglio queste Il ferro è sotto Il ferro è sotto Il ferro è sotto Devo prendere la pietra Ti prego dimmi che c'ho della pietra già cotta Ma dovrei vedere Qua no Qua no Qua neanche Qui No Qui Neanche Mettiamo la cuocere va Ok Qua non c'è niente No Ehm Boo Boo Bo veramente Non so che cosa fare Oh Scusate ragazzi Se sentite spavigliare Ma da un tanto Che c'è Io la mattina Mi sveglio alle 6 vado a scuola col pullman quindi è una rottura di coglioni grande e grosse bene, comunque io domani che domani è il 15 non vado non vado a scuola che cazzo faccio? non so che cosa faccio fare che cosa posso fare che cosa posso fare ah è vero le spike che minchia vedete come mi perdo io poi c'è tipo dedico mezzo mezzo a perdermi mezzo e mezzo un 4x4 di spike dovrebbe bastare cioè non un 4x4 un 2x2 ma non facciamo 2x2 io la legna l'avevo comprata cioè l'avevo l'avevo comprata madonna che sono rincoglionito mamma mia dai facciamo queste cose qua 4 pistoni perfetto minchia manca volerlo minchia se c'ho le cose contate oh ok dai iniziamo a fare una cosa una struttura bene in effetti posso fare un 2x3 anzi un 2x4 ok no queste sono quelle che vanno attirate con la rete non so che palle poi per fare tipo le automatic spike ah play or play bene però vediamo 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 la pietra rosso redstone c'è qualcosa che tipo trasmette l'energia redstone non lo saprebbe non lo so non lo so non lo so a che serve lo resto fatemi vedere la random think vero no non c'è niente che trasmette l'energia redstone che cosa brutta io voglio voglio cacciarmi una curiosità se io faccio così qui c'è un blocco poi sopra c'è la trappola su questo blocco non va la trappola cazzo sta succedendo ok diamo energia redstone per esempio con la mia adorata leva no no ok so che cosa fare bene scaviamo di due blocchi no un blocco no due blocchi coi o ferro no ok bene dimmi che c'ho altri stick mi rompi il calzo da andare a prenderli che palle io me li rievo no scherzo no scherzo 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 ok un attimo ragazzi miei ok bene comunque intanto sto morendo di fame questo mi da no non mi da fame cazzo ho sprecato un cuore no vabbè dai ho sprecato un cuore ok ok e devo fare i ripetere qualcuno forse ce l'ho qua? no vediamo come si fa la scena eccolo qua stone, torce e stone quindi mi serve la legna stone, legna, tanto legna giuro che mi faccio qualcosa che mi porti la legna cioè che sono rincoglionito sono un coglione boh, boh, boh porco giuda ok, attimo no, dov'è la legna? ecco guardate che cosa mi devo portare a fare che non neanche funziona neanche funziona madonna buona legna eccola qua l'ho vista quegli stick non mi sfuggerete stick del cazzo bene bene tanto iniziamo a fare sì, no, devo prendere la legna la legna ok, sì, si è aggiustato c'è nel senso si è aggiustato c'è stata una piccola botta di lag prendiamo la legna e facciamo così poi prendiamo qua e facciamo ancora così e poi facciamo di nuovo niente perché ho finito la cobblestone ma io ce l'ho la cobblestone madonna madonna che rottura di coglioni per voi no, non ci credo che non si può stare come combustibile sta merda ok ok, ok, ok nel tempo rimanente cioè nel mentre io faccio passo la redstone brutta roba qua per essere sicuro e soprattutto per sprecare della redstone ok 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 dai 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 2 mancano Tipo qualcosa di più veloce Di questa fornace di merda non c'è Purtroppo Purtroppo Madonna Ok Ecco adesso muoro Che cosa mi posso mangiare questo Posso cucinare questo No Tanto non muoio Facciamo così Sennò si danneggia l'armatura pure User left your channel No 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 Ok. Quindi ora, teoricamente... Teoricamente ecco che cosa succede. Quanto cazzo di male fanno però? Perfetto. 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 Ok. Sono grande. Perfetto. 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 Ok. C'è una bella estensione. Perfetto. Perfetto. qua. Ok. Perfetto. 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 Ok. Scusate queste parti mosce, magari le taglio o le... O ci metto una musica in sottofondo, non so. magari le velocizzo. Sì, le velocizzo. perfetto tra, sempre, buttate.. moo koo 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 finalmente mi sono accorto che c'avevo questo incattesimo finalmente ringraziate jesefista ringraziate ringraziate ok vabbè comunque lo spawner lo continuerò a casa cioè lo continuerò offline mica quanto fanno male beh no dai fanno abbastanza male comunque non so se c'è tipo l'incantesimo repair comunque 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 per questo episodio è tutto non ho fatto molto sì bene in effetti tanti sei minuti sparsi alla cazzo di cane magari farò qualche cosa nel prossimo episodio in questo episodio ho fatto scusate se ho dato una pacca al microfono comunque in questo episodio ho fatto poco sì perché ho fatto pochissimo in questo episodio non so il perché comunque non saprei non saprei non saprei non saprei non saprei comunque per questo video è tutto nel prossimo episodio continuerò la farm continuerò la farm quindi ciao e a presto e a buon Natale se non riuscirò a fare un video in cui augurerò un buon Natale comunque ciao